E' la verità, perché se arrivi secondo non hanno perso, così mi diceva il mio Presidente e anche l'Avvocato Agnelli, quindi sicuramente è una frase che io ho carpito, quindi al mio Presidentissimo Gian Piero Boniperti, tra la quale lui ci aveva inculcato, quindi mi sembra anche la frase giusta, se volevi arrivare a certi traguardi bisogna fare sacrifici, lavorare, e così ti portava anche alla vittoria, quindi per noi vincere veramente era la unica cosa che contava. Ma è di un ragazzo che viene dal sud, che va al nord, quindi sicuramente io ho voluto fare questa autobiografia, ho aiutato dal mio amico Italo Gucci, quindi per far capire anche a tanti giovani, ancora adesso, meridionali, che possono andare a trovare anche la fortuna, come l'ho trovata io, al nord, al nord come dice qualcuno. Senti, al calcio è cambiato molto. Però ci vuole anche spirito di sacrificio, lavoro, motivazioni e fa capire anche a tanta gente che noi meridionali siamo veramente qualcosa di importante, quindi non solo, sai come siamo sempre definiti.